Il prossimo brano, ecco, questo mi vergogno come un cane a farlo, non so se qualcuno se la ricorda, penso che il titolo fosse Monte Carlo di Gianni Dorelli, è stata rifatta in una versione terribile, angosciante, la roba che io mi vergogno, però vabbè, l'era me è successo, sottotitolo Cagazza d'Ossa Monte Carlo, Io non ho potuto scegliere se venire o non venire, dovevo venire, e anche il repertorio, vedi? Cosa facciamo allora? Se voi vuoi fare vittima crozza No, non la so, ma non sono... E la canto io Vuoi? Vabbè, siete pronti? Sì, che altro? Devi chiedere se sono pronti loro a ascoltare Allora, poi quando noi finiamo, noi scendiamo e sentite voi, perché abbiamo visto che c'è posto, il signor Marco ha detto, non c'è problema, saremo tutti, anzi, chiamate i cari parenti, tutti sul palco, venire fino a vedere quanto chiede Wow, sì E la mancicere, un'altra, 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 un' Al vento di incontrare, erano anche un'ordina di merda e di metà, merda e merda e gara, un'ordina di merda, Monte Carlo, e sull'arrobinare, magari un'ingrante a gara, scarlicale in ticci a Monte Carlo, pure riva al mar, mirano un patinoire, patinoire di merda, naturalmente a Monte Carlo. Oh, mon dieu, che tal si sente? Se lo dure che una merda, dis la gente, merda in di calte, merda in decolette, le rapine di merda, Monte Carlo. Geranieri con la gracia non si danno ormai più pace. Che coleturista, adesso che hanno visto, ma che paese di merda, Monte Carlo. E di che vengi tu a Monte Carlo. E di che vengi tu a Monte Carlo. Grazie. 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 Grazie tantissimo. Trent'anni di onesta carriera e mi battono le maniche a grazie a te. Scusate, non ho proprio capito un oscar carone. Grazie. 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 Grazie a tutti.